ciao ragazzi la nostra collezione di barbie sirene è in fermento ehi ma ci sono anch'io ragazze come dimenticare ken tritone oddio ce ne sono troppe quale potrò sposare caro ken avrai ancora di più l'imbarazzo della scelta perché col pacco novità di oggi matti prima facciamo il giro di scatola grande sono molto curioso chi si nasconde in questo pacco ma non è vero ma è barbie sirena coda arcobaleno drintopia cambia colore si super novità con l'acqua fredda con l'acqua calda noi dobbiamo mettere anche la coda arrivano che bei capelli ma sono bellissimi hanno un colore è l'effetto drintopia ragazzi si manca la coda la coda arriva ken tritone alato ma vuoi che ti porti in piscina al volo barbino vediamola con un giro giro che spettacolo mi sa che vuole proprio tuffarsi andiamo in piscina mati vuoi fare qualcosa per lei mi sa di si chi si tuffa per prima io vai mati uh vera immersione da sirena ce la farà anche barbie vediamo se sarai così brava wow proprio brava adesso tu mati devi fare un tuffo come me ok così guarda è un tuffo pirouette provaci mati risposto scusa bravissima adesso devi fare con me questo da ginnasta barbie come fa con la pinna dentro e a saltelli così perfetto ma sei esperta mati qui però c'è un problema l'acqua è troppo calda non riesco a cambiare colore come possiamo raffreddare l'acqua mati se tu vuoi rinfrescare una bibita cosa ci metti giusto che potrebbe avere del ghiaccio beh a malibu quando vai sulla spiaggia per una bibita bravissima e noi siamo fortunati esatto nuota fino alla forza tuffati guardate come si fa vai ragazzi non si fa così questa era una prova ok e ci si prepara e ci si tuffa e si evitano gli schizzi vero ale poi si nuota e si arriva proprio a lui il bar della spiaggia di malibu è super accessoriato ce n'è per tutti i gusti vuoi l'ananas succo io voglio l'ananas adoro l'ananas il cocco vuoi un po' di gelato no è fissata col ghiaccio ah prego c'è anche la raccolta differenziata oh senti ma se vai al bar a che chiedi il ghiaccio ai gelati di solito chi c'ha al bar la o il bar barriere no il barriere il barista o la barista per fortuna io ho la soluzione ecco il pacco barista signori e signori anche quello c'è certo e c'è qualcuno già interessato eh tritone sei interessato a tutto eh beh oggi si parla di sirene ragazzi wow già mi piace Barbie di Ocean si è la serie di Ocean vuol dire che questa collezione di barbie anche il bar la di Ocean è realizzata al 90% con plastica riciclata dagli oceani di quella che non si dovrebbe buttare e che si trova negli oceani e anche la confezione è riciclabile completamente in cartone e posso vederla se proprio vuoi aspetta che liberiamo i capelli qua wow ma super carina vestito super estivo bella ma è senza scarpe ma no ah erano dentro si per tirarle fuori ah c'hai sandra hai visto e non solo c'è un'altra cosina eh cosa ha di accessorio anche tadaaa gli occhiali da sole eh si sapete che quello è il mio colore preferito ragazzi eh chissà come mai il look è finalmente completo si ragazzi e cosa mi posso portare adesso allora una una ciotola piuttosto grande di ghiaccio e due gelati ah va bene tieni ma di gelato alla fragola è per me quella al cioccolato ma era perale come perale al cioccolato è per me ragazzi molto buono però mi pesa un pochino ok grazie ah il cestino del ghiaccio ho portato il cestino del ghiaccio fatemi controllare se è freddo è freddissimo ahhh scappo beh è necessario rifare il cambio colore sorge un altro problema mati adesso e quale sarebbe come facciamo portare il ghiaccio fino a barbie sirena ah ho il pacco soluzione lo volete? un altro wow arriva il pacco soluzione mati è preoccupata lancialo ma no guarda che bel lancio e adesso giro pacco soluzione in scatola con cosa trasporteremo il ghiaccio fino alla sirena oh no ragazzi il motoscafo di barbie sarà barbie a portare il ghiaccio fino a barbie sirena e porta anche i cuccioli è vero qui davanti c'è anche il posto per come si chiama? taffi taffi giusto mati esperta e tutti i cani della famiglia rovers noi li chiamiamo tutti anei ma non è giusto abbiamo anche il salvagente giubbotto sempre la sicurezza e due bibite fresche servono sempre ci si può mettere anche Chelsea o altre persone o il ghiaccio è vero c'è anche il portapucciolo no fammi vedere taffi che sta lì al buchetto giusto il buchetto sotto e quindi può stare anche qua ma il buchetto c'è anche qua appunto e quindi lui sta lì è più bello stare sul davanti eh si vedono le onde oh oh e si prende il sole una bibita per il guidatore e una per il passeggero ma bellissima ma avete visto che gira? si e galleggia veramente speriamo no? ah si adesso è l'unico modo per andare perfetto da Barbie sirena e prima di partire mettiamo il giubbotto è tutto comodetto è già pronto vai ghiaccio pronto dobbiamo far veloce altrimenti si scioglie ecco una cinghia sapete qual è il bello ragazze? qual è il bello? oltre che sono tornato è il fatto che si può andare in due in questo eh non ci sto non ci sto problema di pinna aaaaa fammi spazio Ken ok io andrò nuotando scusate dove devo andare? dov'è Barbie sirena? là sono qua ragazzi arriviamo uuuuuh senza vani uuuuh come senza vani va bella sicurezza Barbie però ma eh scusa altro problema che problema c'è adesso Ale come applichiamo il ghiaccio? è vero mettiamo il ghiaccio nella spalla e ci va dentro ma ci vorrebbe tantissimo ghiaccio per fortuna ragazzi io ho il pacco riciclone il pacco ricicle riciclone mati eccolo qui ragazzi fai giro di scatola mi raccomando giro di scatola uuuuuh all'interno mi è venuta una ideuzza cioè proprio come Barbie di Ocean che ricicla anche noi possiamo riciclare qualcosa ad esempio la confezione di Barbie Color Reveal versione Chelsea e una spugna per fare una pennona cambia colore ci mettiamo dentro i cubetti di ghiaccio bravissima ho preso un po' di acqua nella spalla poteva funzionare hai fatto bene così possiamo fare anche freddo caldo freddo caldo e vedere che effetto fa adesso che abbiamo riempito col ghiaccio infiliamo la spugna e adesso l'acqua fredda che si genera dal ghiaccio che si scioglie d'estate imbeve la spugna che sarà ah fresca facciamo una prova vediamo se è fredda è fredda mati allora adesso vediamo se ah tu non cambi colore no vediamo la sirena vai distendiamo Barbie per bene allora come va questa acqua fresca funzia funzia stanno prendendo colori più accesi guarda che sfreddo funziona ragazzi guarda che effetto più scende il ghiaccio c'è l'acqua fresca e l'effetto è estantaneo no guarda che cambio bellissimo sembra un'altra sirena praticamente il trucchetto poi è rigirare la spugna esatto perché l'acqua scende sfruttiamo la forza di gravità vai sulla coda e ora guardate eeeh guarda qua incredibile è che siamo al sole si riasciuga subito è vero guarda che cambio guarda qua la differenza si vede benissimo ti da un pochino di lato si bisogna fare un bel lavoro a lato ma che forza diventa un super arcobaleno è bellissimo togliamo la spugna cosa volete fare ragazzi è un cambio di colore veloce esagerato il trucco del ghiaccio vai ma ti stappa vediamo e vabbè ragazzi vediamo se torna chiara dici che torni già chiara eh si le basta guarda lì ragazzi ma è istantanea vai torna dentro guardate e la facciamo tornare dentro lei diventa subito accesa scura guarda super arcobaleno c'è proprio c'è chiara scura scura allo come l'impressione che potremmo stare tutto il giorno dentro fuori dentro fuori dentro fuori a vedere l'effetto che fa ma tu ma ti preferisci la versione chiara o la versione accesa arcobaleno più scura accesa arcobaleno più scura voi ragazzi fateci sapere sul nostro profilo instagram qual è la vostra versione barbie sirena arcobaleno preferita guardate il trucco per farli un po' chiari e un po' scuri ah basta immaggela solo un pochino eh si vediamo e dopo se fai qua così guarda tutto l'effetto un po' chiare un po' scura si le mesh delle mesh le mesh sirene e se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione e voi non mettetevi a testa in giù nel ghiaccio per cambiare colore ma invece andate nel parrucchiero e iscrivetevi al canale youtube gbr per non perdere i prossimi video ciao